quindi siamo al pala yamamai io sono venuto qua un anno fa per la coppa italia si quando vinse naturalmente conegliano venni la domenica di chi è questa bella porsche questa quindi è l'organizzazione c'è l'organizzazione vedete l y b a cosa vuol dire l y b a busto assizio e l y il marchio della società la produzione in mesi televisivi quindi lei è il custode come si chiama solo il nome quanti anni ha gigi ma è appagante è bello entro di qua anche allora la seguo ufficio uiba voli vedere c'è una macchina simile alla mia anzi la stessa proprio tra degli spoiler superiori dove sono in albergo che dopo magari faccio una ripresa in albergo non ha idea vero sono arrivato tardi ma l'idea che di andare ma dopo dopo vanno tornano in albergo ovviamente le turchi ovviamente invece busto va a casa no loro abitano qua vicino infatti bello che c'è un centro è un centro sportivo è un centro sportivo quello cos'è anche se non vuole l'aura faccio parte che non c'è la foto quindi la certificazione non lo compilato ti lascio questo questo ci arriverà qualcuno il biglietto è il biglietto è il biglietto è il biglietto ma devo fare più che ora devo fare quanto siamo laurea Il primo l'abbiamo perso, adesso siamo un po' certi secondi, ma l'abbiamo scattato meglio di noi. Chi c'è? Manco Fantasia? Quanti ne abbiamo? Quattro. Oh, io tifo per Giovanni Guidetti, cioè tifo per Busto, ma sono il grande estimatore suo. Tifo per la provincia. Lui è molto bravo, è un'esperienza. E' di qua a lei, sì. Sì. Questa è un caro amico. Paolo, buongiorno. Un grande... Chi c'è, signor? E siamo arrivati. E adesso andiamo... dalla toaletta. E poi... Sogniamo una vita. Eccoci qua. Bordocampo, molto bene. a più tanti.